Carissimi amici sono sempre qui dal Muevite di Faenza, io sto aspettando che arrivi Michela Furia di Juanidos, una dei quattro, dei super fantastici quattro, è qua, è arrivata Superwoman! Ciao, ciao a tutti! Voi chiederete ovviamente una domanda tecnica a livello organizzativo, io invece chiedo, Michi, quanto sei stanca? Di più! Tantissimo! Però grande soddisfazione per questa due giorni che si sta rivelando un successo? Sì, siamo molto contenti, ancora più stanchi che contenti, poi faremo i conti domani sera. Chi ci pensa? Stasera grande serata? Sì, emozionante, tanti artisti, tanti show, una cena tutti insieme e la serata di ballo. E adesso la faccio commuovere ma poi la lascio perché davvero è di corsa, domani una grande conferenza col magico Enzo Conte. Sì, ci siamo commosse in due. Sì, domani una conferenza, una grande conferenza con quello che è l'ambasciatore della salsa portoricana in Italia, con quello che ci ha accompagnato nel nostro primo viaggio a Porto Rico, per cui l'emozione è veramente tanta. Tanta, sì. Allora, la lascio andare davvero ma la recupererò durante il corso della giornata e magari riuscirò a strapparle un'intervista seria ma la lascio andare perché capisco che è lavoro e lavoro. Grazie, un bacione grande. A te, grazie a te. Ciao. Ciao.